Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi risponde all'invito dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che ha chiesto esplicitamente al territorio teramano di fare presto ad individuare la sede dell'ospedale unico. Secondo Brucchi una città capoluogo di provincia deve avere nel suo comune l'ospedale di riferimento. Buona dunque la proposta del vice presidente del consiglio regionale Paolo Gatti che individua nell'area industriale di San Nicolò una possibile locazione. altrettanto positiva la proposta del consigliere comunale Maurizio Verna che prevede l'insediamento di un ospedale unico nella zona in prossimità della rotonda dello stadio di Piano Daccio ma il sindaco di Teramo propone un'ulteriore ipotesi in località Piane Sant'Atto. Per la regione questi sono ragionamenti all'inverso bisogna prima pensare di realizzare un ospedale all'avanguardia che salvi la vita alla gente e poi decidere dove posizionarlo. Quanto è importante avere l'ospedale unico in provincia di Teramo? È fondamentale e vitale perché dopo un'attenta analisi e un attento studio si è capito benissimo che ormai è l'unica direzione da percorre per dare una salita di qualità e per permettere alla nostra gente di stare tranquilla di curarsi bene e di non dover più guardare di fuori della nostra regione. Io prima che discutere dell'ubicazione che naturalmente e giustamente è una discussione puramente politica oltre che di opportunità che non mi sfuggono mi preme più far capire e far metabolizzare il fatto che avere un ospedale unico vuol dire avere una sanità di qualità, vuol dire essere più tranquilli come dicevo poc'anzi e quindi donare più senerità alla nostra gente. E dei vecchi ospedali che cosa ne faremo? Su questo appunto è nato uno studio che riguarda i vecchi plessi che dovranno essere riconvertiti e quindi su questo c'è un'analisi attenta anche economico-sociale del nostro territorio perché questo è il vero grande tema, cioè evitare che ci siano poi delle cattedrali nel deserto. Va sicuramente individuato subito il sito e bisogna immediatamente procedere alla progettazione e alla realizzazione successiva dell'ospedale. Non possiamo perdere tempo e il tutto deve avvenire necessariamente entro i 5-6 anni.